Sabato 7 maggio, taglio del nastro per la nuova sede del Partito Democratico dell'Alta Valseriana a Clusone. Come si svolgerà l'inaugurazione? Sì, sabato 7 maggio a partire dalle ore 16.30 avremo la possibilità di fare inizialmente quattro chiacchiere con gli onorevoli bergamaschi del Partito Democratico, quindi Antonio Misiani e Giovanni Sanga, con i consiglieri regionali Maurizio Martina e Mario Barboni e con il segretario provinciale del Partito Democratico Gabriele Riva. Ci sposteremo da Piazza Paradiso verso la sede di Via Clì per il taglio del nastro e un aperitivo offerto dal Partito Democratico Alta Valseriana. Via Clì che è una via che si trova sulla sinistra salendo da Via Mazzini verso Piazza Paradiso a Clusone. La nuova sede a quali circoli fa capo? Sì, questa sede è appunto la sede di zona del Partito Democratico Alta Valseriana, quindi fa riferimento agli otto circoli presenti sul territorio e ai venti comuni dell'Alta Valseriana, oltre ai quattro della Val di Scalve. Vorrei ricordare che la ristrutturazione della sede in Via Clì numero 4 è stata finanziata in larga parte dalla Fondazione Gritti Minetti, che è anche la proprietà dell'immobile. Non mi resta altro che invitare tutti a partecipare dalle ore 4.30, sabato 7 maggio in Piazza del Paradiso a Clusone.